Ci hai portato anche delle immagini. Esattamente, abbiamo parlato della sciroccata che ha flagellato le coste tirreniche nella notte tra sabato e domenica. Queste foto sono state scattate sul litorale romano, a Ostia per la precisione, da Emanuele Valeri. I danni che vediamo nell'immagine che segue sono relativi, sì, in parte a questa mareggiata, ma si sovrappongono a quelli che caratterizzano gran parte anche delle coste italiane dovute all'erosione nel corso degli anni. In questa zona in particolare, dal 2012, oggi, quindi negli ultimi sette anni, il mare si è mangiato dagli 80 a 90 metri di spiaggia. È uno dei problemi che affligge, come sappiamo, il nostro paese, quello dell'erosione delle coste. Ringraziamo Emanuele Valeri per queste immagini.